Paolo Nicolazzo, il segretario dell'UMPLI Calabria, siamo qui alla mezzaterme per il convegno di formazione per gli OLP del servizio civile. Buongiorno, oggi siamo qua riuniti tutte le prologo della provincia, scusate, della regione Calabria per questo importante corso di formazione per quanto riguarda gli OLP. Il servizio civile è qualcosa che è molto importante per le attività delle prologo in quanto consente non solo di istruire dei ragazzi e di far conoscere anche la vita amministrativa delle associazioni ma anche un importante contributo proprio all'organizzazione delle attività. Chiaramente questo è un corso che serve proprio per formare quelle persone che poi dovranno essere da tramite tra i ragazzi del servizio civile e le prologo nella realizzazione delle varie attività. Questo è uno dei tanti aspetti delle prologo che anche questo rientra nei nostri complici, non solo quello di impegnarci attivamente sul territorio per riuscire a organizzare una serie di eventi ma anche quello di poter contribuire a far crescere i nostri ragazzi all'interno di associazioni sane e che si impegnano fattivamente per la valorizzazione delle risorse dei nostri comuni.